La potenza della bestia sarà concentrata in un individuo, l'anticristo personale che dovrà venire. Sola eccezione all'universale omaggio reso al rappresentante del potere antidivino sono i credenti genuini che sono stati preconosciuti e da Dio predestinati alla vita eterna prima ancora che il mondo fosse creato. La loro elezione è simboleggiata dalla loro iscrizione nel libro della vita, posseduto dall'agnello che per salvarli è stato immolato e nel cui sangue essi hanno per la fede lavate le loro vesti. Apocalisse 21 27, Apocalisse 7 14, Efesini 1 4 a 6, Matteo 25 34. La loro elezione è garantita che Dio darà loro l'eroismo necessario per uscire vittoriosi dalla gran tribolazione. Dio li ha segnati in fronte col suo suggello. Apocalisse 7 verso 3.